Quello che vedete qui di fianco è un PC portatile dedicato al gaming, un mostro da 17 pollici che sarà in grado di trasportarvi in altri mondi. Ve ne parlo tra poco, qui, su Tech Princess. Viene definito PC portatile, ma questo HP Omen 17 non è certo semplice da trasportare. I suoi 3,35 kg di peso sono però giustificati dai componenti che troviamo al suo interno. Omen 17 è infatti pensato per i videogiocatori e quindi dotato di tutte le più moderne tecnologie, in modo da garantire il massimo delle prestazioni con qualsiasi tipo di videogioco. Per regalarvi un'esperienza più fluida, HP Omen 17 si affida ad un processore Intel Core i7 di sesta generazione, a 16 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1070A con addirittura 8 GB di RAM dedicata. Questo portatile è inoltre caratterizzato da un design massiccio ed aggressivo. E quando dico aggressivo intendo dire che la tastiera, soprannominata Dragon Red, ossia Drago Rosso, si illumina di un colore rosso fuoco. Omen 17 inoltre è proiettato verso il futuro. Recentemente infatti sta prendendo sempre più piede la realtà virtuale, attraverso visori come Oculus Rift e HTC Vive. Questi dispositivi per essere utilizzati richiedono tantissima potenza ed elaborazione di calcolo, che solo pochi computer possono dare. I PC che supportano questa tecnologia sono etichettati come VR Ready. Non potete proprio sbagliarvi. Omen 17 è uno tra questi. Questo mostro di potenza non è però ideale solo per giocare. Le sue caratteristiche tecniche infatti lo rendono un ottimo computer, anche per chi ad esempio si occupa di foto di tocco, di montaggio video e di progettazione e modellazione 3D. Insomma, se avete velleità artistiche o se siete ingegneri o architetti, scoprirete che Omen 17 sarà un ottimo collega di lavoro. Con il suo display da 17 pollici full HD, il PC portatile di HP è comodissimo anche per guardare film, magari sfruttando l'applicazione di Netflix preinstallata. L'audio poi ha una resa eccellente, poiché sfrutta la tecnologia di uno specialista del settore, ossia Bang e Olufsen. Per oggi è tutto. Io e HP Omen 17 vi salutiamo. Noi intanto ci vediamo nella prossima puntata. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it Ciao!